Il 5 dicembre 1962 nasceva una leggenda, anzi la leggenda della Muay Thai Baby Face Killer, Pretty Boy o come gli appassionati amano ricordarlo rubando un po' dal dio nero della box Ali, The Greatest, Samart Payakaroum Definirlo da come mai sarebbe riduttivo, fu attore e cantante di grande successo Una volta scrisse una canzone, On Some, raccontando la storia di un atleta talentuoso che però non ci sapeva fare con le donne Forse, anzi quasi sicuramente giocando con falsa modestia sul fatto di essere il Pretty Boy della Muay Thai Onestamente non ho occhi per dire se fosse veramente pretty Quello che so, ed è un dato di fatto, è che ancora oggi, a distanza ormai di decenni i suoi combattimenti sono presi come esempio e manuale per studiare la tecnica più fine che la Muay Thai abbia mai avuto Con ritardo di un mese, anzi di due mesi, e cosciente che lui non leggerà mai gli faccio, da parte mia e da parte di tutti quelli che mi seguono, i più sinceri auguri Signore e signori, Samart Payakaroum Grazie a tutti Grazie.